Salve a tutti bella gente, benvenuti in questo nuovo video, video che come potete vedere è un po' diverso dal solito. Siamo a Livigno, siamo qui per fare cosa ragazzi? Come potete vedere qui c'è la Tesla e stasera noi dormiremo in Tesla. Sono meno 10 gradi, segnava prima la vettura, in teoria per stanotte hanno messo meno 15 gradi. Siamo veramente molto molto curiosi di vedere come si comporterà questa Tesla nella modalità camping. Ovviamente adesso finché mio fratello si fa la Model S Plaid o la Model X Plaid usiamo la Model 3 perché purtroppo momentaneamente abbiamo questo. Per chi non lo sa, per chi non mi segue su YouTube vi invito intanto a seguirmi per non perdervi questi tipo di video e tanti altri video perché siamo qui in viaggio e ne faremo diversi di video. Vi diremo diverse cose di questa macchina qui. Vi ricordo che questa è la Model 3 RVD con le batterie LFP che per chi non lo sa sono le batterie che soffrono più di tutte il freddo. Quindi non so se stiamo facendo una cosa buona. Detto ciò noi abbiamo già caricato la vettura, siamo all'88-87%, adesso non mi ricordo di preciso. Noi intanto adesso dobbiamo preparare la vettura al nostro soggiorno diciamo. Comunque ci andremo a piazzare vicino a una colonnina che in caso di emergenza vediamo che la vettura perde troppa batteria durante l'arco della notte e ci attaccheremmo alla colonnina. Vi lascio a un timelapse dove prepariamo la vettura al nostro soggiorno. ci aggiorniamo dopo. Alla prossima. Alla prossima. Allora ragazzi abbiamo preparato il tutto. Adesso tralasciate il vario casino che vedete qui ma tutta sta roba dopo ci servirà per coprirci e poi tutto quello che non serviremmo butteremo qui sui sedili anteriori. Qui c'è qualcosa da mangiare. Qualche piccola precisazione. Cosa dice Tesla per quanto riguarda la modalità camping? Dice semplicemente che fino al 20% dopo si disattiva. Ok. E chi è disattiva la sentinella è l'allarme di sicurezza. Ok oltre a questo Tesla specifica anche di non tenere la vettura a meno 30 gradi per più di 24 ore. Non ci sono problemi. Non ci sono problemi non li toccheremo anche perché sono le 9 e un quarto sono meno 10 gradi. Dentro la vettura si sta riscaldando perché abbiamo riacceso il tutto. Adesso noi mangiamo qualcosina e molto probabilmente ci andremo a piazzare a nanna perché io in 48 ore ho fatto 7 ore di sonno e mio fratello in 48 ore ne avrà fatte 11 ore di sonno. Quindi bisogna che recuperiamo qualcosa. Visto che domani qui a Livigno ci dobbiamo passare una bella giornata. Ci aggiorniamo più avanti. Allora come potete vedere siamo in modalità camping. Abbiamo l'83% di batteria. Ci siamo piazzati per bene. Nel mentre abbiamo impostato 21 gradi e abbiamo lasciato tutto in automatico. Noi ci siamo piazzati qui con le coperte fino lì in fondo. Ci stiamo qui abbastanza bene. Vedete ci abbiamo il materasso gonfiabile che si sta sgonfiando. Mi sa però va bene piccolo dettaglio. Sono le 22 e 52 e direi di andare a nanna. Io mi sono messo diciamo una sveglia per sicurezza in caso non mi dovesse svegliare verso le 3 per vedere come l'andamento della batteria. Detto ciò vediamo un attimo come sarà questo esperimento. Fateremo tanto freddo. Ah fuori sono meno 11 gradi. Vedete lì? Adesso vi faccio un piccolo zoom. Sono meno 11 gradi. Sono le 22 e 53. E nel mentre siamo vicino a una colonnina di ricarica fast. Stiamo vicino al benzinaio Eni. Poco dopo che siamo arrivati noi è arrivata questa e-tron che si è messa in carica alla velocità bassa. Poco dopo sono arrivate le altre due Tesla e adesso ne è arrivata un'altra di Tesla che addirittura ci ha chiesto se eravamo in fila per caricare. Mamma mia abbiamo scelto posto peggiore per campeggiare. Mi sa che tutta la notte ci disturberà la gente perché deve ricaricare. Eccoci qua. Buongiorno ragazzi. Come potete vedere siamo passati a 22 gradi. La vettura è arrivata al 62 per cento. Sono le 7 e 30 di mattina. Sono meno 10 gradi. E rispetto a iersere da come vi abbiamo lasciato verso l'una è un pochino abbiamo aumentato i gradi dentro la macchina perché abbiamo fatto la cavolata di prendere questo tipo di materasso qui che è ad aria. Abbiamo gonfiato ma abbiamo patito un po' il freddo che veniva proprio da qui sotto perché non ci abbiamo messo niente sotto. Invece sopra con ste coperte così siamo stati da dio. E poi non sono nemmeno tanto tanto spesse. Sono delle coperte normali. Allora ragazzi come potete vedere abbiamo già messo la macchina in carica. La macchina è al 63 per cento. L'abbiamo appena messa. E niente l'abbiamo appena messa perché qui iersera c'è stato un via e vai di macchine che non vi dico ve l'ho fatto vedere anche prima. In un certo momento c'erano quattro tesla e un audi e tron che stavano tutti aspettando tant'è che la colonnina è andata in tilt. E poi un'altra audi e tron quindi comunque ce n'è di macchine che vengono a caricare. Reso conto per quanto riguarda la nottata. Come vi ho detto prima abbiamo patito leggermente il freddo ma per colpa del materasso perché non abbiamo messo nessuna coperta sopra. Quindi diciamo che proveniva il freddo dal materasso. Se no con le coperte sopra che avevamo non abbiamo patito minimamente il freddo. Cosa molto molto positiva che ci ha sorpreso tantissimo è che nonostante le temperature all'esterno erano meno 10 meno 12 gradi. Mi ha detto mio fratello ha toccato stanotte. Come potete vedere la vettura non ha congelato da nessuna parte né davanti né dietro e soprattutto noi eravamo preoccupati nella parte posteriore qui. Ah ecco forse qui leggermente ha congelato ma l'avevamo visto anche iersera. Effettivamente ci siamo resi conto che durante la notte qui nella parte dei piedi se non li coprivi per bene era freddo perché comunque l'aria dietro non arriva ragazzi. Quindi i piedi copriteli perfettamente. Un'altra cosa che ci preoccupava abbastanza erano i finestrini posteriori che nel caso della Model 3 di mio fratello non sono doppi. Sono doppi solo quelli anteriori e pensavamo che comunque avrebbero fatto passare aria o comunque avrebbero creato ghiaccio all'interno. Invece ciò non è capitato quindi molto molto buono. La pompa di colore è molto molto promossa perché fa il suo lavoro e poi ragazzi non consuma manco tanto perché noi siamo andati a dormire verso le 11 più o meno sì e ci siamo svegliati verso le 7 e un quarto e siamo rimasti un attimo un po' a chiacchierare. Sono all'incirca otto ore poco più di otto ore. La vettura ha consumato solo il 21 per cento ragazzi. 21 per cento con temperature a meno 10 meno 12 gradi visto che nel caso nostro abbiamo le batterie LFP che come tutti sapete e come vi abbiamo detto anche in altri video soffrono molto molto il freddo. Devo dire che va molto molto bene. La vettura ha resistito particolarmente bene. Detto ciò ragazzi è un'esperienza da fare magari preparatevi bene nel senso non c'è bisogno che prendete materassi perché la vettura comunque al fin fine è abbastanza comoda. Ovvio non sarà un hotel a 5 stelle. Detto ciò siccome so che qualcuno di voi nei commenti scriverà è andate a Livigno e dormite nella Tesla vi potete permettere una Tesla ma dormite nella Tesla no ragazzi. Dopo lo vedrete anche con l'hotel che abbiamo preso oggi dove non ci siamo risparmiati. Ovviamente abbiamo sempre guardato per non farci fregare i soldi inutilmente ma comunque abbiamo preso un bel hotel. Noi volevamo fare un esperimento uno per portare un contenuto a voi uno per una nostra curiosità personale e poi sapevamo che le batterie LFP soffrivano tanto il freddo ed eravamo curiosi di sapere se sarebbero morte del tutto cosa sarebbe successo. Tant'è che ci siamo per questo motivo messi vicino a una colonnina con tutte queste ricariche che c'ha la ricarica veloce la ricarica lenta. Detto ciò ragazzi io vi ringrazio di aver visto questo video mi raccomando lasciate like iscrivetevi al canale arrivederci e al prossimo video.